Questo premio per noi significa e ci garantisce l'opportunità di far conoscere la nostra start-up ad un pubblico più vasto. Ho incontrato tra i partecipanti a questo evento potenziali clienti, partner e un ecosistema molto vasto, quindi l'ennesima conferma del lavoro che io e il team stiamo portando avanti negli ultimi anni e è un piacere ovviamente essere qua. Grazie.